Ciao a tutti, sono Enza Patti e insegno lettere al Liceo Linguistico Norfio Polloni. Perché scegliere il Liceo Linguistico? Perché consente di acquisire competenze comunicative in tre lingue straniere, inglese come prima lingua, mentre la seconda e la terza lingua possono essere scelte tra francese, spagnolo e tedesco. Ma perché è così importante studiare le lingue straniere? Innanzitutto perché lo studio delle lingue risponde ad un'esigenza innata nella natura umana, e cioè il bisogno di comunicare. Più lingue si conoscono, più elevate la capacità di relazionarsi e di aprirsi al dialogo con l'altro da sé. Inoltre, conoscere una lingua non significa soltanto memorizzare lessico e grammatica, attività già di per sé molto arricchente, ma significa anche venire a contatto con l'identità di un popolo, conoscerne il patrimonio storico-culturale. Vuol dire apprendere come vivono le persone di un altro paese, come pensano, quali sono le loro tradizioni e le loro usanze. Significa quindi scoprire la bellezza della diversità. Nel nostro mondo, costantemente interconnesso e sempre più globalizzato, il confronto tra culture diverse è fondamentale per capire quanto l'altro non sia in realtà così distante da noi, aiutandoci così a superare antichi stereotipi e infondati pregiudizi. Inoltre, studiare le lingue aumenta la creatività e la flessibilità mentale. Il plurilinguismo infatti dà accesso ad una considerevole quantità di informazioni e organizza il pensiero in modo nuovo, facendo percepire il mondo in maniera più varia e articolata e spalancando così nuovi orizzonti di senso. Più lingue si conosceranno e più culture si apprenderanno, più grande sarà l'opportunità di elaborare il pensiero e a maggior ragione il pensiero critico. Un'ultima ma non meno importante motivazione è che studiare le lingue è molto divertente e può dare grandi soddisfazioni, oltre ad allenare la memoria e a potenziare le capacità logiche. Per quanto riguarda il piano di studi del liceo linguistico, oltre alle ore dedicate alle materie comuni anche agli altri indirizzi liceali, durante il biegno si affronta lo studio della lingua inglese per quattro ore a settimana, mentre le altre due lingue, scelte tra francese, spagnolo e tedesco, vengono studiate per tre ore a settimana. Nei primi due anni ci si concentra sullo studio del lessico e della grammatica e su alcuni aspetti culturali e sociali dei paesi stranieri. Successivamente, a partire dal terzo anno, si introduce lo studio di opere letterarie e, accanto ad esse, di opere artistiche, musicali, cinematografiche, uno studio che renderà il percorso molto più appassionante e coinvolgente. Ciò che caratterizza il liceo linguistico è la compresenza dell'insegnante di cattedra con l'insegnante madrelingua per un'ora a settimana in tutte le lingue studiate, al fine di potenziare le abilità comunicative e di approfondire alcuni aspetti legati alle tradizioni e alle usanze del paese d'origine. Il nostro liceo offre corsi di preparazione all'esame di certificazione di tutte e quattro le lingue studiate. Le certificazioni sono attestati fondamentali per il riconoscimento del livello raggiunto nell'ambito del quadro europeo di riferimento e sono spendibili sia in ambito lavorativo che in ambito universitario. Nel triennio gli studenti hanno la possibilità di svolgere soggiorni o gemellaggi all'estero. Tale esperienza di indiscusso valore culturale ha anche un'importante valenza formativa in quanto gli studenti ospitati da famiglie del luogo potenziano non solo le loro competenze linguistiche ma anche le loro capacità relazionali confrontandosi con stili di vita diversi e accrescendo così il loro senso di responsabilità. Il liceo linguistico Nolfi offre inoltre il percorso ESABAC che prevede il rilascio di un diploma a doppia valenza spendibile in Francia nell'università ma anche nel mondo del lavoro. L'indirizzo ESABAC consiste nel potenziare il francese attraverso lo studio della storia veicolato in lingua. Tra le iniziative del nostro liceo sono da evidenziare il progetto Narrar Teatrando che consiste nella messa in scena di uno spettacolo nelle quattro lingue straniere, The Art of Translation progetto di traduzione ed incontro con l'autore, i mini corsi di lingua tenuti dai nostri studenti per i giovani alunni delle medie. Al termine dei cinque anni di liceo gli studenti potranno scegliere tra i più sbagliati percorsi universitari sia di ambito umanistico che scientifico. Chi intende rimanere nell'ambito della specificità del percorso potrà indirizzarsi verso le facoltà di lingue e letterature straniere, di lingue aziendali, di mediazione linguistica, di relazioni internazionali. Dopo il diploma potrebbero d'altronde presentarsi anche sbocchi più immediati nel campo del lavoro sia nell'ambito del marketing che del turismo. In conclusione lo spirito che anima il liceo linguistico può essere sintetizzato in alcune parole chiave comunicazione, confronto, accoglienza, integrazione, multiculturalità, viaggio e scoperta. Buona scelta, vi aspettiamo! Grazie a tutti!